molti dicono eh ma le maglie di Bolleni non esistono non esistono non esistono i premi di Super Pistol no non esistono non ci sono premi non ci sono premi io ve lo posso giurare su su Orsi che è l'orso della BMW 520 Carburator a carburatore è diventato il suo adesso è stato anche lavato con perlana ma non è diventato coccolino perché è un'altra cosa era un'altra però le magliette fine anzi fighe ci sono e come quindi chi riconosce la Opel oggi si porta a casa questa che è stupenda dedicata a Enzo Ferrari e alla sua 128 o meglio una delle tante che Giovanni H Gianni Agnelli gli ha concesso in utilizzo lui prima aveva le Peugeot dopo Fiat 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 provate a indovinarla non è facile da riconoscere quella Opel lì Opel non Opel non Opel o Opel chissà cosa sarà qui ci sono ... che è